Bentornati! Allora oggi video molto breve però per dirimere una questione che credo sia importante specificare perché ci sono tre termini che sono strumentazione, orchestrazione e concertazione che spesso vedo usati in maniera errata. Molte volte anche nei commenti trovo che si vengono usati un po' sproposito, però se questa cosa è alla fine più che accettabile, più che comprensibile da parte di un non addetto ai lavori, a volte vedo che anche qualche musicista non ha le idee chiarissime per cui mi faccio portavoce senza che nessuno me l'abbia richiesto di questa necessità di chiarire cosa vogliono dire questi tre termini che oggi vediamo. Allora, la strumentazione non è altro che l'elenco degli strumenti che un compositore ha deciso di utilizzare per scrivere un'opera, un concetto, una sinfonia, una qualunque composizione. Per esempio, la strumentazione che so delle nozze di Figaro è due flauti, due oboi, due carinetti, due fagotti, due corni, due trombe, timpani, archi. Allora, questa è la strumentazione delle nozze di Figaro. In questo senso la strumentazione è sinonimo di organico, quindi molte volte potrete anche trovare organico e due flauti, due oboi. In questo senso il termine strumentazione e organico sono assolutamente equivalenti ed equipollenti. Diverso è la parola orchestrazione. Ora, a parte il fatto che ho fatto un video specifico sull'orchestrazione, sull'arrangiamento, che vi lascio poi alla fine del video, l'orchestrazione è il come il compositore ha deciso di utilizzare gli strumenti che ha scelto nella strumentazione. Cioè, in quale maniera, attraverso quali specifiche tecniche, attraverso quali escamotaggi espressivi il compositore ha deciso di utilizzare quegli strumenti e quali ha deciso di utilizzare. Cioè, se nelle nozze di Figaro ci sono due flauti, due obi, due carineti, due fagotti, eccetera, eccetera, non vuol dire che in tutti i pezzi delle nozze di Figaro, in tutte le aree, tutti i concertati, i duetti, i tri, ci siano tutti quegli strumenti. Il compositore, per esempio, in un pezzo può decidere di non utilizzare, che so, i flauti, perché la sonorità del flauto non lo aiuta, anzi probabilmente non gli fa gioco, per ottenere quello che lui vuol ottenere da quel singolo pezzo. Quindi i flauti serviranno nel complesso delle nozze di Figaro, ma magari in quella singola aree, in quel singolo duetto, Mozart non utilizzerà i flauti. E quindi, per riassumere, la strumentazione e l'orchestrazione spettano al compositore. Quello che fa il direttore orchestra non è l'orchestrazione, è la concertazione. La concertazione la potremmo definire come il vero lavoro del direttore orchestra, cioè il lavoro che fa alle prove, in cui il direttore orchestra decide che equilibri dare ai vari strumenti. Per esempio, può dire, in questo pezzo, che so, i fagotti più forti, le viole più piano, oppure qui suonate tutti balzato, oppure qui, no, voi staccato, oppure può cambiare una legatura, può cambiare il fraseggio, può cambiare anche qualche dinamica. Raramente il direttore orchestra stravolgerà la dinamica prevista dal compositore. O magari il fortissimo può diventare un forte, o il forte può diventare un mezzo forte. Raramente il fortissimo diventerà un pienissimo. Mediamente, insomma, ci si augura che il direttore orchestra rispetti quella che era l'intenzione e la volontà del compositore. Anche la questione dei tempi è una cosa che spetta al direttore orchestra e che riguarda la concertazione. Cioè, decidere, ad esempio, Allegro cosa significa? Perché Allegro è un range di metronomo abbastanza ampio, che può andare da un tempo un po' camminato a un tempo anche molto veloce. Quindi questo fa parte della concertazione. Il video è stato volutamente breve, spero di essermi spiegato. Se qualcosa non vi è chiaro, scrivetelo nei commenti, così come se volete un approfondimento. E nel frattempo due cose potete fare. La prima, iscrivervi, ovviamente lo sapete già, e se proprio voleste potete per filo abbonarvi. La seconda cosa che potete fare è andare a vedere l'apposito video che ho fatto sull'arrangiamento e sull'orchestrazione. E noi ci vediamo al prossimo video.